Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft Oggi siamo in una mini mappa che si chiama Toad's task E' ciò che vorrebbe dire il compito di Toad Toad per chi non lo sapesse è la testa a funghetto che è presente in Super Mario E' una mappa molto particolare come vedete c'è la custom map E' tutto a tema Super Mario E Super Mario c'è ma che cazzo stai fermo non mi vedete da sportare Come vedete mi stanno comparando delle cose in chat C'è WTF stai calmino stai calmino non ti preoccupare parliamone con calma Ci sono delle cose qui che se le premo mi dicono le regole mi dicono Ah informazioni se hai tutte le 5 le vite hai bisogno di riscaricare la mappa per giocare di nuovo addirittura Ci sono due oggetti unici nascosti in questa mappa Si può giocare a multiplayer ma purtroppo sono le 7 e 20 di mattina non penso di trovare qualcuno con cui giocarla Se salto sotto un blocco con il punto di domanda mi da un coin molto buono Se rimango bloccato posso cliccare per un video tutorial ma vabbè poco mi interessa Non mi servirà Posso scrivermi che cazzo me ne frega E devo cliccare sul toad giallo per iniziare Penso sia lui il toad giallo Però io ancora non clicco perchè qui vedete che è pieno di roba Questi pensano siano Allora questo è un coin questo penso sia uno degli oggetti Questo sembra uno stivale sinceramente Se senti un rumore del tubo vuol dire che funziona Si che funziona Un martello è figo figo c'è anche l'omino di panni di zen No ok Cazzo è un pinguino Si sembrerebbe Questi sono i vari blocchi Boh io direi partiamo Devo ancora passare qua sopra Ah ok 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 vai 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 Possiamo andare Sono pronto per conquistare il... sta partendo la mappa Ok perfetto Red click talk to talk to him Ok Allora se salto qua sopra Non posso saltare Abbiamo un problemino ragazzi Non posso saltare Parliamo con Todd Hello Per favore mi aiuti Va bene Cosa devo fare Sono in un'avventura al momento Sto cercando di trovare Bowser Ma ho dimenticato i miei stivali a casa Non è che me li porti Guarda mi ha dato un martello E con il martello non so cosa posso fare Ah minchè si è slogato la caviglia Ecco perchè non va da nessuna parte Vabbè praticamente mi ha dato questa ascia E con cui Oh mio dio Ma tu che cazzo sei Oddio c'è pure il cooldown Sono mucche assassine queste Ti giuro sono mucche assassine Per forza 10 No 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 Via da qui Via Porca puttana sono morto Dove sei? Dove sei? Ok Ok ho perso una vita ragazzi Non è una bella cosa Stiamo calmini Cosa è sto rumore? Possiamo entrare nella caverna ora Quale caverna? Ah ok Bisogna andare qua a destra Non posso spaccare niente Ah posso spaccare il legno Ok Ok Sto spaccando il legno Stai tranquillino Non ti preoccupare Ora in teoria dentro la caverna Dove ho trovato qualcosa? Che è successo? Oh go go Non è successo niente però Gó 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 Qui non si va da nessuna parte Boh Vediamo andare avanti Oddio che bello sto fiorellino Oh? oh mio dio no i blades no solo blades? si oh sta prendendo fuoco tutto è un problema questo ragazzi non posso saltare ho il jump boost ma non funziona ok sta andando fuoco al legno quindi posso passare in mezzo appena avrà finito in teoria spero più che altro perchè non sto capendo di preciso allora se passo in mezzo è sicuro muoio quindi non lo voglio fare cosa? l'acqua è avvelenata e ora solamente tre vite non mi piace questa cosa ragazzi non mi piace per niente guarda il fuoco è andato via posso andare avanti però mi da fastidio non poter cioè saltare sui blocchi ok devo andare su una di queste cose per andare avanti ok a quanto pare non era quella giusta ce n'è solamente una giusta e devo trovarla ehm possibilmente non sarà così semplice dovrei salire sopra ognuna di queste e entrare se quella giusta mi porta avanti se quella sbagliata mi riporta all'inizio minchia ho capito zio non mi sembra tanto tanto semplice voglio dire non sei neanche troppo gentile che cacchio di solito cioè ce ne sono 4 o 5 non 69 cavacca davvero è pieno poi quante belle la texture del fuoco bellissima ah questo l'ho provato questo l'ho provato quello l'ho provato proviamo questo sicuro sarà quello alla fine per forza guarda mi rimane sempre all'inizio io che le provo tutte allora o è in mezzo o è alla fine proviamo quello alla fine vediamo se è quello lì ma in teoria si dai per forza ce ne sarà uno un po più tipo questo guarda come ho indovinato e invece no che bello cazzo fai la faccia inarrapata vabbè usiamo questo vediamo questo dove ci porta mamma mia che ansia non esce più c'è sempre all'inizio torno e continua a prendere fuoco il tutto tra l'altro ecco quello non è questo non è proviamo questo qui è proprio a metà potrebbe essere quello vuoi invece no proviamo quest'altro qui dai 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 si vai cazzo ok ci siamo ci siamo ci sono delle cose qui che posso rompere no qua c'è toadster ciao toadster posso parlare con te oh ciao potresti farmi un favore certo dimmi presso il suo vestito da pinguino ah ho capito ok la farm di grano dovrebbe essere questa devo solo stare attento a non cadere eccola qui trovata penguin suite trovata trovata attenti ai cactus non voglio morire andiamo a dargliela vieni boom si l'ho trovata era una cazzata zio potevi uscire e trovarla da solo e come promesso ora mi darà questo qui ok 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 vedete mi sta dicendo di salire sopra la casa di toadster e usare il questo ombrellino per viaggiare spero tantissimo di non morire ok ok grande c'è questa in realtà ma non posso saltare quindi non posso farci molto allora vediamo cosa c'è di qui magari c'è qualcosa di carino c'è un'altra casetta? c'è un'altra casetta cazzo raga c'è qualcosa qui in mezzo magari anche questo qui ha perso qualcosa non mi sembra no infatti allora apriamo la porta buongiorno c'è una carta che non posso prendere va bene c'è una cesta oh ok posso saltare ora ragazzi indossiamoli si cazzo si oddio che cosa è successo? c'è toad che sta gridando aiuto prendo i coin intanto che li voglio qua sopra si può salire ok no qua c'è il muro invisibile però penso di poter tipo fare un gliding e andare via no vabbè posso saltare quindi semplicemente torniamo da toad perché mi sta chiedendo aiuto posso saltare quindi le facciamo così e in teoria questo mi riporta alla base ho sbaglio ok ma oddio stiamo calmini tu che cazzo sei? sei un fungo mangiamerda oddio mi ha velenato oddio mi ha velenato ok ok ho poca vita ho poca vita pochissima vita non muore non muore raga ecco alla via da qui via da qui devo timarli correttamente ok 1 2 ok 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 è morto è morto è morto è morto cos'è che stava dicendo? una creatura cattivissima sta cercando di rubarmi la roba no non sta cercando di rubarti la roba zio sta cercando di ammazzarti ok oh gli stivali si cazzo mi sono scorrato che in realtà stavo tenendo il mio secondo paio di stivali addosso tutto il tempo oh madonna mia sai cosa tieniti gli stivali ma sei scemo ora mi tocca seguirti anche io non ho parole eh speriamo ho solamente 3 coin cazzo fammi prendere tutti i coin eh visto che ora posso saltare sai com'è prendo molto volentieri piglia piglia bravo qua c'è nessuno ce n'è un altro oh senti un rumore ok penso di averli presi tutti sai vabbè ovviamente questi altri tubi non mi portano da nessuna parte se non all'inizio quindi non ha senso prenderli ok nell'acqua non ci vado perchè altrimenti muoio ed è che possiamo salire la scala e andare dal mister todino finalmente è ora che posso saltare sai com'è buongiorno tod finalmente posso continuare la mia avventura per trovare bowser e conquistare il mio onore vedi un giorno quando bowser ha attaccato il castello per rapire peach sono stato coraggioso e ho provato a fermarlo beh in realtà mi ha buttato via e ha detto levati dal cazzo brutto bastardo ho bisogno di vendetta grazie per il tuo aiuto grazie a te li metto anche io qua dentro the end ok era un cioè carina piccolina non è durata neanche 10 minuti davvero però oh niente male niente male l'unica cosa è che che puttana è tutto nero ragazzi è tutto nero ragazzi tutto nero si vede un cazzo va bene era bellissima più che altro perchè c'è la texture pack che era fatta bene tutto lo tema super mario c'erano youtube c'erano il blocco con il punto di domanda davvero figo e vi ringrazio tantissimo per il giorno conoscere il mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto seguite su twitter instagram facebook e ovunque vi vogliate io vi saluto ciao a tutti qualcuno può usare la mano vai flippa ok vai vai no 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 oh oh si è morto un professore raga è morto un professore tungo